Siamo qua con Oliviero Olivieri, uno dei più cliccati come interviste dello scorso l'animo. Allora Olli, cosa ci dici di oggi? Ti abbiamo visto il protagonista di un grandissimo girone estremamente combattuto. Sì, avevo dei ragazzi giovani agguerriti. Sì, di qua, di scappare. E dai ragazzi, agguerriti. E ragazzi, dei giovani. E coriacei. E coriacei, erano molto coriacei i giovani che ho giocato. Cancellala. È perfetto a Olivieri. Dai, cazzo. E niente, sono impegnato ma poi là tiravano forte. Ho visto che hai vinto una battaglia a 16-14 al quinto, mi sembra. Sì, mi sono impegnato. Un grande risultato. Ho giocato fuori un po' di grinta così e avevo voglia di vincere proprio oggi. Lì l'esperienza della leggenda viene fuori. L'esperienza è stata fuori, certo. In momenti difficili così viene fuori l'esperienza. Ho sentito delle urla che mi sembravano dei chiai del karate. Sì, ho praticato karate prima di praticare il tennis tavolo. e quindi è rimasto così. Chi ha voglia di fare le chiai? Obiettivi per oggi? Passare un turno o due, sono contento. E domani? Domani faccio il doppio, al singolo terzo, gioco così per divertirmi. Tutto all'insegna della bella partita. Grande Olli. Va bene? Ciao. Grazie.